Ma io non posso credere a quello che ho appena visto, mamma mia, clamoroso ragazzi, oddio clamoroso era anche, poteva anche succedere, infatti è successo. Ragazzi, la Juventus perde contro l'Atalanta, l'Atalanta che nel primo tempo ha giocato nettamente peggio della Juventus, tra l'altro Morata un'occasione lì davanti alla porta invece di tirare una mina nella porta, aspetta, fa il pallonetto, diciamo, fa quelle cose per far finta di essere un campione. Per carità, grande giocatore, però ormai avanti con l'età si scende un po'. Dicevamo, l'Atalanta che vince 1-0, per la Juve è stata un'ottima prestazione nel complesso, però l'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta a volte va a momenti. Perché a volte, quando magari becca la giornata sbagliata, ma tu sei sfortunato, e allora vuol dire che l'Atalanta doveva vincere questa partita. L'Atalanta l'ha vinta con un episodio, perché poco prima del gol, ragazzi, c'è stata una punizione di Malinoski, che stava per andare in porta. Ma, c'è un ma, perché in tutte le cose c'è un ma, Malinoski era scivolato, quindi sarebbe stata ancora più clamorosa. Poi la deviazione di Alessandro sul tiro di Malinoski, sfortunatissima. La Juve che ha creato molto di più nel primo tempo, Atalanta solo quei 10-15 minuti dove la Juve è stata messa in difficoltà dalla squadra di Gasperini. Poi tutto il resto del primo tempo la Juve molto molto bene, molto bene. Tra le parate di Gollini c'era un dubbio, tra l'altro su un tiro, non mi ricordo di chi, forse di Morata, che Gollini avesse preso il pallone con la mano fuori dall'area di rigore. Quindi ci poteva stare anche una punizione per la Juventus, per questo fallo con il tocco con la mano da parte di Gollini fuori dall'area di rigore dell'Atalanta. L'Atalanta che poi nel secondo tempo macina, crea di più rispetto alla Juventus, anzi la Juventus credo poco e niente abbia creato nel secondo tempo. E ovviamente se poi sei bravo a sfruttare le occasioni è anche un po' fortunato, perché qua bisogna dire che è fortunata l'Atalanta a vincere la partita, per questa conclusione di Malinoski deviata proprio da Alexandro, che condanna la Juve, che adesso ha un bel problemino. Cioè il Napoli, dovesse vincere con l'Inter stasera, andrebbe a pari punti con l'Inter, ovviamente, scusi con l'Inter, con l'Inter, io non ci metto troppo il pensiero, sono, come sapete, sono grandi tifosi del Napoli, ma la vedo dura, la vedo dura perché l'Inter, ragazzi, non si ferma più, andrebbe a pari punti con la Juventus, ma con lo scontro di letto a favore, quindi la Juventus virtualmente sarebbe quinta, e anche la Lazio dietro, che sta correndo parecchio, oggi 5-3 al Venemento, sta correndo parecchio la Lazio, quindi diciamo che tutte quelle che stanno lottando per la Champions devono stare attenti anche a Inzaghi e alla Lazio. Ma parliamo dell'Atalanta e della Juventus. Come dicevo, Juventus che crea di più, poi, ragazzi, tra mano di Gollini forse fuori, tra tante partite, partita molto tattica, partita molto bloccata nel primo tempo, a sprazi qualche occasione per la Juventus, soprattutto, ripeto, quella di Morata, pallonetto su Gollini, Jim City salva sulla linea, ma ripeto, lì devi tirare una bordata di quelle pazzesche, una bordata di quelle pazzesche, lì devi tirare una bomba in porta per portare avanti la tua squadra, e non puoi aspettare e fare il pallonetto a Gollini con tutto che forse entrava in porta, ma non lo puoi fare. E lì, dal secondo tempo in poi, l'Atalanta viene fuori, piano piano, e riesce a segnare il gol dell'1-0 all'87, poi la ragazza all'87, all'87, quando la partita rischiava di finire 0-0, trag la pera di Malinowski, che forse sarà anche autogol di Aleksandro, non si capisce, deviazione che di fatto inganna Scesni, perché Scesni, il pallone sarebbe infinito innocuo tra le braccia di Scesni, senza quella deviazione, e invece con quella deviazione ha preso un effetto diverso, e è finita in rete, e la Juve perde, questa partita perde uno scontro diretto, perché ha perso uno scontro diretto, questo è uno scontro diretto, la Juventus lo perde, si allontana l'Atalanta per gli altri, e mette pressione anche al Milan, perché va a meno uno, e si allontana, e la Juve rischia, la Juve rischia, perché Napoli, c'è anche la stessa Lazio, la Roma che bene o male può rientrare, ci sono parecchie squadre che rischiano di scavalcare la Juventus, e questo non lo dico, perché non dico Juve, ma è la realtà, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, sotto nei commenti, oppure direct su Instagram, su Whatsapp, quello che volete, noi ci vediamo dopo, dopo col post partita di Napoli Inter, preparatevi, perché ci saranno, ce ne saranno delle belle, Napoli Inter, ci vediamo dopo, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!